Carissimi parrocchiani, al termine della messa di Pasqua abbiamo chiesto un aiuto per sostenere le spese della parrocchia, le spese ordinarie, le bollette che purtroppo non cessano di arrivare sappiamo che tutti quanti, forse questo è un momento difficile per tutti anche a livello economico e quindi noi siamo semplicemente uno in mezzo a tanti però volevo anche farvi sapere, perché non tutti lo sanno, che noi praticamente viviamo e paghiamo tutto semplicemente con le offerte domenicali e le offerte dei sacramenti non abbiamo come parrocchia altre entrate per cui è chiaro che in questo periodo le nostre entrate sono quasi zero tranne le offerte che ci state facendo per questo periodo allora per questo abbiamo promesso di mettere le coordinate bancarie a disposizione anche sul canale YouTube e l'abbiamo fatto attraverso questo video se volete copiarle e incollarle dovete andare sul sito della parrocchia www.parrocchiasanmarco.it vi ringrazio anticipatamente, a presto Don Giulio www.parrocchiasanmarco.it